Musica Occorre fare in Basilicata ogni sforzo affinché le persone con neurodiversità possano avere la migliore qualità della vita con il supporto prezioso delle loro famiglie. Sono queste ultime la fonte di serenità vera per le persone autistiche. A queste ultime dobbiamo garantire una vicinanza concreta con servizi che possano migliorare le loro giornate e alleggerire il peso di un'assistenza impegnativa e che deve sempre essere costante. Il mio impegno andrà pure in questa direzione. E' il pensiero del consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Leggeri che in occasione della giornata mondiale dell'autismo ha espresso vicinanza a tutte le persone affette da questo disturbo e alle 500.000 famiglie che si prendono cura di un loro caro con neurodiversità. La pandemia ha provocato innumerevoli disagi proprio per queste famiglie che hanno dovuto affrontare mesi di isolamento ha detto senza poter far frequentare strutture attrezzate o semplicemente consentire ai bambini giovani e meno giovani di fare una vita sociale degna di questo nome con i coetanei e i familiari.